Quarantesima edizione della fiera dell'artigianato di Pinerolo, siamo qui per scoprire un laboratorio artistico molto particolare. Permesso? Uno! Ah, buongiorno! Eccoti qua! Scusa, mi hanno detto che ci sarà un laboratorio, è un laboratorio artistico questo? Sì? Sì, è un laboratorio. Ok. Scusa, farete qualcosa per l'artigianato? Sì. S'è abatto e domenica. Ah sì? Dove? Qui? Qui, lo faremo qua. Buongiorno. Ciao. I libri! Ma è un libro? Sì. L'ho messo sotto peso. Sotto peso. Vediamo. Oh, però. Ma anche tu fai parte del laboratorio? Sì, ok. Sabato ci sarai anche tu? Sì. A che ora? Dalle 17 in poi e invece domenica dalle 10 alle 19. Ok. Sette artigiane allora. Artigiane. Bello. Che differenza c'è tra arte e artigiano? Artigianato? Eh, potrebbe essere anche un'unione delle due cose. Allora, di là lavorano il vetro, stampano libri e di qua vediamo che cosa succede. Permesso? Ciao! Ciao! Claudio? E questo? Stiamo cercando di allestire l'esposizione che ci sarà sabato, sabato pomeriggio e domenica per l'artigianato. Ah, anche voi siete artigiane? Sì, esatto. Bello. Sartre e illustratrice. Oh, bellissimo. Chiara e Rolena ci ospiteranno qui sabato, a partire da sabato pomeriggio. Sabato alle 17 qui nel laboratorio artistico di Via Lecchio, 16. Artigiane in lab. Appuntamento quando? È sabato pomeriggio dalle 5 e poi domenica tutto il giorno. Vi aspettiamo! Ciao!